Allora, in base all'articolo che abbiamo letto sull'atto milanese, noi abbiamo fatto un comunicato che abbiamo dato ad alcuni giornali e vogliamo sottolineare che di problemi tra noi, di Alconate Serena, il Presidente in persona, non ha nessun problema con l'amministrazione comunale e con nessun altro. Anche perché Alconate Serena da quando è nata è passata da tre, quattro amministrazioni e non ha mai avuto nessun problema con nessuno. Questa poi, a prescindere da quello che dice E.M., noi non lo so il perché vuole un chiarimento dal Presidente. Se vuole un chiarimento dal Presidente, venga lui stesso e me lo chiede e io e lui possiamo parlarne come vuole. Perché io con l'amministrazione comunale non ho nessun problema. Ci siamo già chiariti. Il Sindaco stesso in un'assemblea l'ha dichiarato spontaneamente che con noi non ha nessun problema. Noi, a tutte le manifestazioni del Comune, inerenti al Comune per qualsiasi cosa, noi saremo e ci siamo sempre stati e saremo sempre presenti.